Salve ragazzi e ben ritrovati! Oggi sono qui con voi per fare un piccolo vlog per dirvi che oggi, giovedì 25 aprile 2013, sono arrivato alla soglia dei 50 iscritti Ragazzi, io vi ringrazio a tutti quanti voi non avrei mai immaginato di arrivare a 50 iscritti in poco più di un mese e mezzo cioè il canale, lo sapete, è aperto dal 9 marzo quindi sono quasi due mesi, un mese e mezzo, un mese e tre quarti non sarei mai aspettato di arrivare a 50 iscritti in così poco tempo veramente ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per tutti voi che mi seguite che mi piacciono i miei video, che condividete su Facebook, su Twitter ragazzi, veramente vi ringrazio tantissimo, tutti di cuore perché non so che dire, cioè, non lo so sono arrivata a 50, non me l'aspettavo sinceramente questo traguardo quindi ragazzi, veramente, grazie tanto a tutti quanti naturalmente questo vlog non sarà assunto di 50 iscritti ma ho tante cose da dirvi e... ora, pian piano, inizieremo a tutti comunque ragazzi, ancora grazie per essere arrivato non so che dire ragazzi grazie, grazie, veramente, grazie tanto innanzitutto, poi parliamo delle serie che ci sono in questo momento sul canale allora, Madfather ragazzi, è finito quindi... è finito puntate non ce ne sono più volevo fare, parlando con voi, tutti i finali però poi ho detto, fare tutti i finali, dovrei ricominciare più volte ci dovrei perdere troppo tempo tutte le gemme, tutte le camurrie ci metterei io troppo e sarebbe un video anche noioso e ripetitivo perché si rivedebbero sempre le stesse parti, le stesse cose alla fine cambiano soltanto i finali alla fine, ragazzi avete visto qual è il finale quello, diciamo, il più bello di tutti io ve l'ho fatto vedere che è anche per me stata una sorpresa aver preso il finale più bello perché ce ne sono qualche o cinque o sei ce ne sono tanti quindi, alla fine cioè, ho fatto vedere il finale che io reputo il migliore quindi, Madfather è finito naturalmente ho controllato in giro e ho scoperto che di giochi come Madfather non so se sono delle stesse delle stesse produttori forse sì, forse no ma di giochi come Madfather ce ne sono parecchi io ne ho visti finora o tre o quattro ho visto oltre a Madfather Witch House Misao e Paranoia questi tre Misao Paranoia e Witch House li farò tutti e tre perché noto che Madfather è piaciuto molto mi piace molto quindi ho detto facciamo dei giochi simili anzi mi approfitto per dire una cosa Witch House si dice che si ho detto anzi in qualche blog precedente che era il sequel di Madfather sono cavolate non è il sequel è fatto dagli stessi produttori quindi non mi ricordo super giù come è nata la storia del sequel comunque si diceva che fosse un sequel perché la ragazza protagonista di Witch House sembrava sembrava la ragazzina che è il Madfather aveva perso gli occhi quella che prendere i cosi con gli occhi spaccarlo prendere gli occhi e buttarli nel camino c'è parecchia somiglianza ma alla fine non sono la stessa la stessa persona quindi si diceva che fosse un sequel ma non è un sequel beh comunque lo vedrete perché inoltre Witch House già l'ho cominciato e l'ho finito giusto questa mattina questa mattina ho fatto qualche registrazione e ho finito di fare Witch House sono tutte pronte le puntate mi pare che sono 5 o 6 non mi sto ricordando perché è anche un gioco molto piccolo uno non ci mette molto c'è qualche enigma un po' un po' un po' un po' cattivello diciamo perché uno ci deve perdere un po' di tempo però alla fine è un bel gioco sono sicuro che tutti voi vi farete delle belle glasse risate alle mie spalle perché nonostante se un gioco in RPG Maker ragazzi mi sono cacato addosso perché ci sono colpi tipo di panico totale perché muori per ogni cioè ragazzi secondo me chi l'ha fatto era un troll perché muori ogni 3 secondi fai un passo e muori fai un passo e muori tocchi il muro e muori vi dico ragazzi non me non lo so più cioè ragazzi l'ho finito sono contento di averlo finito perché è una cosa allucinante e questo è uno poi le serie che stanno andando poi no le serie ancora che devo fare è un programma bioshock l'ho preso qualche giorno fa l'ho installato stamattina ed è pronto appena appena un po' di tempo lo comincio e non lo so se lo farò se lo farò ho visto l'inizio l'intro un po' di cose se lo faccio lo metterò proprio gli angoli sono in lavorazione datemi il tempo di sistemare un po' di cose farò le sigle per gli angoli un po' di tutto datemi un po' di tempo cioè ho bisogno di un po' di tempo per sistemare un po' di cose stavo dicendo infatti se farò questo gioco lo metterò nell'angolo dello sclero con tutto su un gioco RPG lo metterò nell'angolo dello sclero è Dark Soul ragazzi ho visto l'inizio provo a fare due passi è incredibile sto giusto si muore più di Wich House cioè Wich House muore ogni due secondi lì ogni 0,5 secondi sei morto io appena l'ho visto ho detto ma che cos'è ho sclero o sclero poi non lo so se fare è Kat Mario non lo so perché io sono un tipo che quando poi cominci mi cominciano a morire cominciano di nervosirmi le cose mi cominciano ad andare male poi io ragazzi sclero e quando io sclero tutto il mio parlare sarà un bippo continuo perché delle brutte parole che mi escono è meglio non saperlo poi e questi qui sono i giochi che dovrei fare poi non so se in questo momento altri giochi in mente vabbè c'è il 7 Dead Space 2 ma se prima non finisco il primo è inutile che faccio il secondo ora parliamo dei giochi che nel momento sono sul canale Amnesia sta andando avanti noto che appena siamo arrivati a un po' più d'azione Amnesia ha preso più visualizzazioni sono contento vuol dire che comunque sta andando avanti appena finirò finirò Amnesia ditemi voi se volete fatto qualche mappa personalizzata perché so che di mappe ci sono molte ho visto pure che c'è una mappa che riguarda la bellissima Luigi Mansion cioè ragazzi io quando ho visto Luigi Mansion ho detto no mio dio la devo fare però poi ho detto è troppo lunga mi secco già so tanto il fatto che Spuntamario che sono e Stalin è bellissimo quindi ditemi voi poi Scribblenot andando avanti anzi ragazzi mi approfitto per dire che ho avuto un problema che ho dovuto che però lo dirò anche in una puntata comunque lo spiegherò più dettagli che una puntata non la potrò trasmettere perché ho perso il dato c'è stato un po' di dettagli corrotti un casino assurdo vabbè poi lo spiegherò meglio nel video di Scribblenot adiacente cioè quello subito dopo lo spiegherò meglio all'inizio poi Dead Space andando avanti tutto tranquillo anzi può darsi che appena finisco di fare questo vlog farò un altro video di Dead Space o forse comincerò Bioshock o forse comincerò Misao non lo so si prende come me la penso e poi 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 Dead Space vabbè poi ragazzi c'è Aoni Aoni noto che non piace cioè di solidarizzazioni poco e niente alla fine ragazzi lo blocco aoni cioè ho le puntate finite ma se non piace è inutile pubblicarlo potassi che lo pubblichi capace che un giorno non ho niente da fare una sera prenderlo e butto lì dentro tantanto per finirlo perché alla fine ragazzi noto che non piace perché anche effettivamente vedendo un buffo che ti segue non è che faccio tutto sta gran porno tutto sto gran piacere però vabbè era un giochettino così semplice in RPG e l'ho voluto fare comunque ne approfitto per salutare due miei due amici che mi seguono Federico e Andrea vi saluto grazie per grazie per essere il mio canale e continuate a seguirmi ragazzi se voi volete dei saluti ditemelo che io vi saluto nei vlog non ho nessun problema e ragazzi che dire mi pare di aver detto tutto sicuramente mi starò scordando qualche cosa sempre sicuro sicuro ecco comincerò forse se l'ho detto l'angolo dei retro games e avevo in mente già alcuni titoli cioè non so principalmente quali farò sicuri sicuri due Parasiteive 2 che io lo adoro più di ogni altra cosa è Metal Gear Solid 1 il primo che io adoro anzi forse secondo me dopo Final Fantasy 8 è il miglior gioco per Playstation 1 ho mai esistito secondo il mio potesto parere poi poi naturalmente ha il suo parere poi ragazzi volevo dire una cosa non so se lo farò perché mi perderebbe troppo tempo forse un giorno sono riuscito ad avere l'ultimo RPG Maker uscito l'RPG Maker VX Ace che è l'ultimo uscito in piazza poi se ne è uscito uno ieri non lo so cioè l'ho preso un paio di mesetti fa anzi prima di cominciare il canale l'avevo già preso e mi sto dilettando a creare un mio giochino quindi può darsi che se lo finisco e vedo che il giochino è bello può darsi che pubblicherò io stesso un gioco naturalmente ragazzi io ve lo ricordo sempre ah vero mi avete anche chiesto me lo stavo dimenticando di fare To The Moon To The Moon una cosa del genere l'avevo già visto non mi ricordo davvero il titolo è in programmazione il tempo che lo trovo che me lo compro il tempo che che lo metto che lo assemblo comincio anche To The Moon va bene ragazzi detto questo penso che non ho più nient'altro da dire io ragazzi ancora vi ringrazio perché ho raggiunto 50 iscritti e non me lo aspettavo sinceramente sono veramente contentissimo di questo traguardo detto questo ragazzi io come sempre vi saluto vi do appuntamento al prossimo vlog al prossimo video ragazzi come sempre io vi ringrazio di tutto detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo vlog ciao